Botta e risposta tra il comitato degli sfollati ERP della provincia di Teramo e il comune della città capoluogo. L'assessore Ilaria De Santis non manda assolutamente giù le polemiche sollevate, rimarcando l'impegno dell'amministrazione, ovviamente capendo le vicissitudini dei cittadini, attoniti di fronte al ritardo atavico dell'erogazione del CAS, il contributo per autonoma sistemazione. Assessore De Santis, ancora qualche piccola polemica riguardante il CAS? Sì, siamo rimasti stupiti nel leggere la nota del comitato ERP, più che altro perché noi come ogni due mesi anticipiamo come comune le somme che la regione invia in ritardo, quindi non in maniera puntuale. Anche questo mese, nel mese di agosto, anticiperemo queste somme. È chiaro che però tutte queste critiche che sono state avanzate dal comitato ERP forse sarebbero dovute andare alla regione, alla protezione civile, che non invia in maniera puntuale queste somme, arrecando anche un disagio al comune stesso, perché nell'anticipare le somme il comune deve affrontare una dinamica all'interno dell'ufficio del bilancio non sempre agevole, perché dobbiamo intanto individuare tutti i capitoli capienti, prelevare almeno un milione di euro e riversarli in quota CAS e poi, una volta che la regione ci rinvi i soldi, ridistribuirli. E questo è chiaro che per un ufficio diventa un'operazione abbastanza difficoltosa e arrega anche del disagio. Ma nonostante ciò, proprio per stare vicino ai nostri concittadini, consapevoli del fatto che vivono un doppio dramma, quello della loro quotidianità rovinata dal terremoto e anche il fatto di non abitare nelle case di provenienza, cerchiamo di farlo sempre, abbiamo iniziato a farlo da un paio di anni a questa parte e continueremo a farlo. Infine, la stessa De Sanctis lancia un ulteriore appello alla regione e al Dipartimento della Protezione Civile, evidenziando la volontà dell'amministrazione d'Alberto, non lasceremo soli i nostri concittadini. Quello che voglio dire è che probabilmente la regione dovrebbe seguire un po' più i nostri consigli, quelli che abbiamo cercato di inoltrare durante le varie cabine di regia fatte negli ultimi periodi, cioè quello di inviare in maniera regolare le quote per il CAS, proprio per andare incontro a tutti questi cittadini, perché purtroppo la ricostruzione a Teramo è ferma e proprio per quello che continuiamo a erogare il CAS. Se la ricostruzione, soprattutto delle palazzine Ater, fosse andata avanti, probabilmente oggi tutte queste persone che giustamente esigono di ottenere il CAS in maniera regolare starebbero già dentro casa, quindi questo problema non ci sarebbe più.